oggi ragazza mio padre io sono il napoli tu sassuolo sicuramente il sassuolo vincerà sarà una grande partita io come sempre lo bastonerò senza pietà alcuna giocato ogni minuto devi forza siiii lo segnalo, potresti piangere? vedremo ancora delle camere facce che farà ogni gol che prenderà io non so giocare bene dove si tira? col circhio? va piano fammi vedere ciao a tutti è iniziata la partita sassuolo come potete vedere armigia molto bene un filtrante? un filtrante? un filtrante che è un filtrante no la vediamo come vissa vissa da lì uuuu ma dov'è uscita? sii esci tutti a calcio d'angolo come vedi Cristo subito ma che? sto giocando sul vetto ma che mazzo ma che mazzo sto giocando con sassuoli sto giocando con un parcellone ma perchè non te lo scelto? perchè mi piace vince difficilmente guarda passaggino fatto bene oh allora va no la volevo prendere stavo quasi prendendo ma lonna che sto mangiando a rete uuuu ma che lanciate a rete noo grande intervento non ce la faccio più raga veramente non ce la faccio più veramente ce la faccio più no premere i tasti i tasti? cioè noi iniziamo e iniziamo perchè prima avevo giocato tipo un'ora due ore a rainbow quindi sei perdi perchè dove va? che perdi uuuu no è re no è peggio non è che prendi perchè stai premendo troppi i tasti? cioè stai premendo troppi i tasti? cioè stai premendo troppi i tasti? cioè stai premendo troppi i tasti? ok con la x sai come la che si premendo? no? no guarda no perchè che hai premuto? niente eh nooo ho premuto la c no la c manco gli sta punto prendiamo pure insigne insigne a dove? a dove? oh mamma mia che sai non è che buono non è che buono non è che buono non è che buono bene da insigne vai a prendere le patate vai insigne abbondantemente buono altra volta hai fatto troppo casino è caso stai intravedendo nulla dai è caso stai intravedendo nulla non è che buono ma non è un guacchissimo non è che buono non è che buono un guacchissimo tu non lo fai ma tu non lo fai il collo si non volevi come fu e mia si togli sta testa peluso peluso peluce oh sei liberato ma che sei liberato il collo Scusa ma la sopra sta Babbo Natale e la porta sta giù, perchè hai bussato la porta di Babbo Natale? No, ho bussato la porta dove? No, non c'è. Ora vuoi che è bussato? Guarda la porta. Guarda la porta che sta venendo a bussare. Oh, mi sono liberato, mi sono liberato. Traversa! Traversa forno e calcio d'amore? Scusa, attraversa nemmeno dove? No! Oh, dove vai? Vai sulla neve? Vai sulla neve, vai a sciare! Oh, dove vai? Andi! Oppa, 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 oppa c'è entrato! E ti lo stavo! C'era? No, che era quello? Questa è la razione va giù! Poi senza la rigura, eh! Gold in gold dopo, se c'è basta! Ripeto, se no sono al paticcio! Se si ricopi sta giù a tutti! Fuori! Ehi, a dove vai? A pigliere! Ma serio? Vai, filtra, filtrante! Dovai? Non c'è stato un tasto che si salta! Non c'è stato un tasto che si salta! Non, non si salta, Sofì! Ci ha da stare! Non c'è! Oh mai! Non c'è! Non c'è! Ragazzi, vuoi il tasto per saltare? C'è questo? Perché se no non mi rende senso! Questa! Traversa! Ma dai! Non c'è lei! Mi dà lei! Calma! Calma! Oh! E non vedo il monito! Se tu metti avanti! Sta arrivando! Sta arrivando! Sta arrivando solo a ranzi! Sta arrivando! Scarta tutti! Scarta tutti! Scarta tutti! Ma avanti! Ma avanti! E' la paro al quartiere! Mi spiace ma... Ha fatto tutto quello che è possibile! Già fa mangiare un confetto! Non lo ho confetto! Filtrane! Chi sei filtrane? Sto filtrane! Confetto! Troppo alta ragazzi! Hai premuto troppo... Da! Sei professore? Ho scritto! Ho scritto da ciò! Ah! Seguate più 4! E' il professore! E' il suo professore! Tu sei forte piccola te hai fatto a battere? Non che te ba la battuta! Non che te la fai! Non che te lo fai, non te la fai! Sì! Io lo so! Sto frittane! Sarai fa una pura! Però non le posso venire! Oh! Che hai fatto! Non è si fa! Ma hai fatto! È ehhh! Molito! questo è fuori, ci sa chissà ma tu se non fai paura tu perdi siiii che è poliano poliano no lo so poliano ok come ho detto l'altra volta se lo sapete tempo no ma non controlla veramente ma io la controllo però one esco col portiere tu fa palaletta se giravano qualcosa non si fa ma dove vai? e che lo spugiarlo ma nooo mmmm ma nooo non c'è la famosa cosa nooo da questo ma dov'hai ma ando andi nooo casinfo nooo e che la terra bravo con filtro 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 ancora allargati scendi palleggia la domestica la scarpella nooo non c'ha troppo lento raga troppo lento oh no ma che stessa mi sbaglio che stessa o se io segno devo cambiare il modulo ma che modulo devi cambiare giocando io un secondo tempo devi cambiare assolutamente modulo questo non va non è la squadra che dico io non va bene non va bene non va bene non va boccato sono milanese oh ma dovrò chiedere con questo questo è 1.0 c'è proprio modulo come si cambia la modulo c'è la mia modulo questo è il nuovo non lo so quindi 17 andiamo va non premere non premere non premere ma che stiamo impostazioni forz forz veloce attenzione 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 no c'è niente va avanti va avanti quando gioca lo fa eh ora lo fa fermati eccolo qua qua sopra fermati e l'animo dove finì ah questo è il modulo aspetta un 4 4 2 vai sono pronto vai è finita un 4 4 2 è finita vai vai ma se io prendo questa mi frega mamma mia mamma mia c'è fatta c'è fatta c'è fatta c'è fatta c'è fatta non c'è stata la prova a casa non c'è fatta la prova a casa no vai sventa oh ho sventato fai stu prozzi fai stu colpi test con 4 4 oh bella che ti è rubata e tu si tira vai a tira ma anche le scarpe se la tirate senza le scarpe tira ma la sei che si ma la sei già si vede che l'impostazione 4 4 2 è un'impostazione filtrante vincente vincente ti dico dica si 4 4 4 2 ragazzi 4 4 2 è più omogenea dai vedi punto l'aria inizio è un'impostazione ma è una un'impostazione e un'impostazione il harina ma è un'impostazione il rosso però se mi dai il rosso lo dai lui a te stesso ma no mi ha dato il giallo, lui è la maglietta gialla quindi lui è milanese giallo vedi come ha cambiato il 4 4 2 è circa di aprire faccio un cross sei pronto col colpo di testa è tutta pelata è vero testa pelata no ho sentito un'altra cosa si è sempre qualche cosa di male da pensare forse ho sentito male forse sto vincendo forse è detto ma già una cittadina forza la registrazione non lo so è vuoi sempre che ho sentito male mamma mia mamma mia se non mi ruppano palla io vado a segnare no io vado a segnare nooo ma che culo ma che culo dopo prendo il real madrid così faccio i bumbi e affondisci se ne vado sotto eh togliete non vedo ma non è possibile leggere il partito che è il tannazzo molido è verano non vuoi dire è così no no si ma non vale no milic fuori di tanti nooo non ci sono capiti io e te porca vacca c'è c'è non l'ho visto si è giù questo non ce la fanno la proposta ma è giù c'è un giochermasiglia ma se ti partiti 0-0 non ce la zicca la proposta io il bacio l'oro ma se mi 0-0 non è finita non è finita non è finita ma dove vai a montana difensore non è finita dove vai quanto vai vai oh ma nonna quanto mani quanto non volevi dirlo PAAA non volevi nooo non volevi ci hai tirato a porta che hai fatto sto parodino ma cosa dici nooo si nooo 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 si ma che culo ma avevo muo avevo avuto bobo fortuna ma sto sfondato lo devo dire ma chi no vigno no vigno non so però se segnali ma sto sfondato la vedo segnali no però si faceva tutte quelle cose alla fine segnali partita meritatamente doveva vincerla io devo vincere tranquillamente io sono partita era gol se non premo cerchio ma preme quadrato un gol stai se non toglie la testina vuoi fallo? ma che fa? vuoi fallo? fallo non vale fallo li pieghiamo palla alta intercetta maschina O NON DIO O NON DIO o NON DIO peccato peccato perché non è uno è uno uno non è zero Amo slick quando hai fatto la foto con Amo tu sei fatto la foto con Amo eh lo so infatti adesso in un negozio ma te lo vedo dici come hai fatto bello non lo so solo attenzione però che avanza il sassuolo cross e non venga niente questo Ananzi e scusa ma da la foto sto metti il sassuolo perché sta più vicino a me oh fallo si fallo oh è il mio eh no pazzate quale è il mio mettiti più vicino a me quale non è il mio no sentite più qua non ti metti mamma si stanno tirando a porta no non si fa tirare no siamo voluti la porta e il bottone no il gioco è fatto così che è il portiere portiere appena la prendo la butto la butto a casa oh grande no si no si no asino mi dai un paleggio ma si no si no ci metti là il primo asino oh palappa la giuppa no dai frigo oh dai ecco lo vedete la cosa di adesso un passaggio Qua si può tirare, vai, tira cerchio, devi fare così, prendi questo, non prendo niente, no, vai tira, vedi lo sto prendendo io, si, brava te, ma non ho fatto, non ho fatto dove ti prendi il rosso, non ho fatto nulla, va, va, vedi lo fare, non si tira non si può tirare non si può tirare non si può tirare ma non si può tirare va bene va bene va bene va bene conclude 1 a 0 adesso partiamo di 0 e stefano adesso io prendo anche una sferettina ancora più scarsa continuiamo il video si ferma saluti a tutti hai finito la registrazione? si io premo sale sale ho premuto 2 volte e come avevi detto prima ci vediamo alla prossima